Qualcuno mi dirà forse sei ripetitivo, ma non posso non ripetermi. Basta girare in qualunque posto della città e si trova degrado, sia nel centro sia nelle periferie. Eppure l'ex sindaco Melucci, fortunatamente decaduto, dichiara di aver seminato la rinascita. Quest'oggi stiamo al quartiere Salinella, precisamente via Lago di Bracciano, angolo via Lago di Garda, una terra di nessuno, una zona completamente abbandonata, oggetto di un degrado e appunto di un abbandono incredibile. Guardate già come si presenta il manto stradale, eppure stiamo parlando di una zona molto trafficata perché, come vedete, insiste il mercato, perché nelle vicinanze c'è appunto la parrocchia e le condizioni del manto stradale sono paurosse. un vero percorso di guerra, mai rifatto, buche, cunette, dossi, sprofondamenti, asfalto rappezzato che si sovrappone e crea appunto delle sporgenze pericolosissime. Vuoi per i per i pedoni, per le persone che camminano, che magari vanno a fare la spesa, ma anche appunto per gli ammortizzatori e per i braccetti delle automobili. Quanto poi alla segnaletica è completamente assente. Segnaletica stradale, la segnaletica appunto verticale e inesistente, una zona molto trafficata dovrebbe avere i suoi stop, dovrebbe avere il suo dare precedenza, dico per dire qualsiasi appunto mezzo strumento atto appunto a disciplinare il traffico veicolare. ecco, vedete, mentre sto camminando si sente proprio le sporgenze, sembra di stare sulle montagne russe e anche per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, qui abbiamo le strisce pedonali, vedete, le strisce pedonali sono completamente assenti. Ma guardate anche lì il manto stradale, è un percorso di guerra, sembra davvero Beirut sotto i bombardamenti. Parliamo di una zona, dicevo, molto ma molto trafficata. Oggi è giorno di mercato e immaginate i rischi che si corrono. Eppure i cittadini pagano regolarmente le tasse. Evidentemente a Taranto non ci sono i cittadini di serie A e i cittadini di serie B, ci sono proprio i cittadini di serie B e di serie C, perché così l'amministrazione li tratta. Tolte un po' di luci in via d'Aquino e in via di Palma, già basta andare nelle strade, nelle parallele del centro e già il degrado si avverte. Stessa cosa, a maggior ragione, dicasi in queste zone meno centrali. Una terra, un'area completamente abbandonata. Le immagini parlano da sole. È qualcosa di vergognoso. L'amministrazione Melucci è stata una, forse insieme a quella di Stefano, insieme Bello, ma è stata una delle più fallimentari in assoluto. Però hanno anche il coraggio di parlare. Questo è l'assurdo. Davanti a uno scempio che è evidente, che è appunto innegabile, hanno il coraggio di vantare l'inesistente. È una situazione incredibile. Per questo voglio dare una svolta a Taranto, la questione ambientale, ma innanzitutto la vivibilità urbana. Di questo abbiamo bisogno. Caro Melucci, anziché aver buttato 3 milioni e mezzo per il 6GP in cui sono venuti 4 gatti, almeno avresti potuto benissimo pensare a dare un po' di vivibilità ai cittadini che lo meritano.